Musica Frana Pomarico Borrelli torna nella zona rossa la rabbia dei cittadini. Bilancio regionale 2017, il 21 giugno l'udienza riparifica davanti alla Corte dei Conti. Biciclette, via al bando, folla davanti al Comune di Matera. Navette, ok all'accordo tra Regione Basilicata e Comune di Matera, le fall, meglio tardi che mai. I cammini, seconda sessione del convegno, beni confraternali e pietà popolare. Il regista Duccio Forzano a Matera per il live show del volo. Matera Calcio, bando deserto, il Comune aperti a nuove proposte. Ben ritrovati in studio. In primo piano la questione navette. C'è l'ok all'accordo tra la Regione Basilicata e il Comune di Matera, la replica di fall, meglio tardi che mai. Non c'è nulla da festeggiare, così il direttore generale delle fall, Matteo Colamussi, all'indomani dell'ok all'accordo tra Regione Basilicata e Comune di Matera per l'attivazione e il potenziamento delle navette da Serra Rifusa a Matera Sud. Il Comune trasferirà 400 mila euro alla Regione per permettere la sottoscrizione di un contratto di servizio con le fall e garantire così il potenziamento del trasporto ferroviario in ambito urbano. Meglio tardi che mai. Siamo finalmente all'epilogo di questa storia. Al momento noi abbiamo notizie soltanto attraverso i media. A dicembre scorso, al termine, al completamento della realizzazione del parcheggio che abbiamo fatto in completa sinergia con Regione e Comune, eravamo già pronti ad operarci per questo servizio. Spero, auspico, che nelle prossime ore possiamo concludere questa fase contrattuale e avviare questi servizi, ma soprattutto mettere a disposizione della comunità materana, oltre che ai tanti turisti, il grande parcheggio di Serra Rifusa, che credo sia uno dei parcheggi di scambio più grandi del sud Italia, che sicuramente potrà favorire il decongestionamento del traffico cittadino, che credo sia una delle maggiori problematiche della città dei sassi. La frana di Pomarico, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli, torna nella zona rossa alla rabbia dei cittadini. Rabbia e delusione per gli sfollati della zona rossa di Pomarico, quella colpita dalle frane di febbraio dove è tornato il capo della protezione civile Borrelli. E' tutto fermo dall'ora, denunciano. Abbiamo tanti disagi, ci sono anziani, bambini, disabili. I fondi per l'autonoma sistemazione arrivano in ritardo, in più, oltre il danno, la beffa delle bollette. Abbiamo delle utenze che non sono state ancora sospise. Cioè, siamo in una zona rossa, con uno stato di emergenza, e praticamente ci sono ancora delle utenze che non sono state sospise a livello monetario, insomma. Cioè, pagate le bollette? Stiamo continuando a pagare le bollette, sì. Ne paghiamo poi due. Cioè, una qua e una nell'abitazione di appoggio che abbiamo adesso, insomma. Sulle bollette e gli altri temi, la replica del sindaco rieletto alle amministrative. È stato un errore di qualche gestore. Per il partito qualche bolletta, ma se tu mi interrompi l'energia elettrica, faccio l'esempio, io so che dal giorno tot non posso pagare l'energia perché non me la fornite. Ci sono casi di disabilità anche persone anziane? Sì, sì, disabilità, ma sono tutti sistemati in case private. Noi diamo, appunto, allo stato di emergenza, è positivo in questo. Diamo un tot in base allo stato di famiglia e loro, con quello, si parte da 400 euro per una persona. I contributi sono in regola o ci sono dei ritardi? C'è stato ritardo perché c'era stato un ritardo tra stato e regione, però anticipato come comune. C'è da approfittare dell'estate. In autunno si ripresenterà il rischio per le forti piogge. Dopo la prima fase dello stato di emergenza, in cui sono stati garantiti i fondi, inizia dunque la seconda fase della messa in sicurezza, della ricostruzione, della quantificazione dei danni, per cui arriverà un ulteriore finanziamento dal governo. Sono qui per accelerare i tempi, dice Borrelli. La frana ha risentito dei periodi di maggiore intensità, di piovosità. Adesso si sta andando a stabilizzare, quindi bisognerà porre in essere tutte quelle misure volte a eliminare l'apporto di acqua sul versante della frana e quindi mettere in sicurezza l'acquedotto. Il primo passo dunque deve compierlo l'acquedotto ripristinando le tubature. Un po' di polemica su questo. Nella riunione a porte chiuse tra le parti, accettare di fare l'intervento per l'acquedotto sarebbe ammettere le responsabilità che sulle prime gli sono state attribuite, ma per il Comune intanto si proceda per la tutela dei cittadini. Il bilancio regionale 2017. Il 21 giugno ci sarà l'udienza di parifica davanti alla Corte dei Conti. Si terrà il prossimo 21 giugno a potenza l'udienza pubblica dinanzi ai giudici della sezione di controllo della Corte dei Conti sulla parifica del bilancio regionale del 2017, necessaria per avere il via libera sul documento contabile oggetto di contestazione sul quale gli uffici di Viale Verrastro hanno lavorato alla cremente. Rispetto a quanto ipotizzato dopo la richiesta di proroga sui chiarimenti che era stata fatta dalla Regione, i giudici dell'organismo con sede in Viale del Basento hanno fissato la data dell'udienza tra meno di una settimana. La Regione Basilicata punta a ottenere la parifica per programmare spese e progetti senza essere ostaggio sui conti. All'udienza, da quanto si apprende, non si esclude che l'ente potrà presentare dei documenti contabili utili, oltre alle 500 pagine allegati già consegnati nelle mani dei giudici contabili per rispondere alle osservazioni fatte. A seguito della bocciatura del rendiconto 2015, lo ricordiamo, la passata giunta Pittella fu costretta ad applicare interventi sugli esercizi finanziari, compresi tra il 2015 e il 2019. Notevoli riflessi sulla gestione dei conti, tra i capitoli sotto la lente di ingrandimento, ad esempio le spese per il personale, considerate eccessive nel bilancio 2016, e le contestazioni sugli enti e sulle spese per i fondi europei. Una folla di materani davanti al Palazzo di Città questa mattina. È partito il bando per le biciclette del Comune. Guardiamo. Dalle 5 meno un quarto, meno 10 sono qua. Ho il quinto numero. Sono felice di questa iniziativa perché è un'iniziativa ecologica e spero che sia anche di proseguire per i prossimi anni. Sono arrivato per le 7, per le 7 speriamo di riuscire a prendere questo bonus. Aiuteremo il traffico di materia a essere più fluido. Bicimania nella capitale della cultura pronta a diventare sostenibile. Fin dalle primissime luci del mattino, centinaia di cittadini si sono accalcati davanti al Comune per ritirare il bonus per l'acquisto della bici elettrica. In 500 già pronti, solo al momento dell'apertura degli sportelli. Il criterio per l'assegnazione dell'incentivo del 30% è quello cronologico. Dopo oggi le domande potranno essere presentate. Lunedì 17, dalle 15 alle 19. Il bando scade il 4 luglio. 250 mila euro sono stati messi in campo dal Comune che, considerata la risposta massiccia, si impegna a reperire ulteriori fondi. Siamo soddisfatti, siamo contentissimi della iniziativa promossa dall'amministrazione pubblica e quindi dall'assessorato al traffico. Vedete benissimo che dalle prime ore di questa mattina si sono riversate un sacco di persone qua per richiedere il contributo. Quindi noi siamo assolutamente contenti, siamo nella direzione giusta, abbiamo imboccato la strada giusta che è quella della mobilità sostenibile. Dobbiamo ridurre quanto è possibile l'auto privata. Abbiamo iniziato con l'autobus, ora andiamo avanti con le biciclette a pedalata assistita. Abbiamo iniziato con i boulevard per quanto riguarda gli asti pedonali. Dobbiamo iniziare a cambiare il paradigma culturale dell'auto privata. Quindi mobilità dolce, mobilità sostenibile per ridurre l'impatto e l'inquinamento atmosferico. Dobbiamo rastrellare i fondi dell'amministrazione comunale per trovare ulteriori risorse, per dare una risposta a tutti i cittadini materani. Colgo l'occasione per ringraziarli per questa disponibilità e dobbiamo dare una bicicletta a tutti coloro la richiedano. Il tema della famiglia presentato anche a Matera è il nuovo regolamento europeo. A Matera è stato presentato per la prima volta in Europa il nuovo regolamento europeo della famiglia, che riscrive il regolamento di Bruxelles 2bis 2201-2003. L'evento, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, dalla Scuola Superiore della Magistratura, Formazione Decentrata di Basilicata, dalla Camera Nazionale Avvocati per le Persone, le Relazioni Familiari e i Minorenni, sezione di Matera e dal Tribunale di Matera, si è svolto al Museo Nazionale Domenico Ridola nella mattina del 14 giugno. La cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare del diritto di famiglia, è stata al centro delle due sessioni della tavola rotonda. Argomenti centrali, in effetti, sono quelli che riguardano la circolazione degli accordi privati sugli status e il riconoscimento e l'esecuzione delle convenzioni stipulate dai coniugi senza l'intervento del giudice. In pratica viene valorizzata la figura dell'avvocato perché oggi, in effetti, è possibile, e lo si vuole portare anche a livello europeo, giungere alla separazione e al divorzio senza, per forza di cose, rivolgersi ai tribunali, detto in parole veramente molto semplici. Nella seconda sessione, invece, c'è l'importanza all'audizione del minore. In effetti, arriva la norma europea sull'obbligo di dare al bambino capace di discernimento un'opportunità di ascolto, perché effettivamente questo non è previsto dappertutto. In Italia, noi oggi, abbiamo in effetti già una norma, ma il bambino non è ancora parte, perché l'avvocato, per una questione deontologica, non può ascoltare il bambino, mentre invece, con l'inserimento nel regolamento europeo, probabilmente anche l'avvocatura deve un attimo rivedere questa norma deontologica per quanto riguarda l'avvocato. Nel presidio ospedaliero di Melfi, dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, è stato effettuato il primo parto. Analgesia alla paziente, dopo aver seguito il percorso di reclutamento alla 32esima settimana di gestazione, ha partorito un bambino di 3,5 kg. Lo ha reso noto il San Carlo in un comunicato. Per molte donne, scritto nella nota, il dolore del parto rappresenta un grosso scoglio da superare. Per poter ricorrere alla sedazione del dolore, è una possibilità che il San Carlo ha voluto offrire anche alle partorienti dell'area del vulture. Continuiamo a puntare sul presidio di Melfi e sul punto nascita, che ha detto il direttore generale del San Carlo, Massimo Barresi, si va a rafforzare anche con la nomina del nuovo direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia Francesco Bernasconi, un professionista di chiara fama con esperienza pluridecennale in ambito ostetrico-ginecologico. Ancora la salute a Matera, il Forum nazionale sulla obesità. Prima edizione a Matera per il Forum nazionale sull'obesità, che si pone come obiettivo quello di intraprendere azioni specifiche per far riconoscere in Italia l'obesità come malattia. Il Forum è stata un'occasione per iniziare a discutere di una possibile carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità. Matera, come capitale europea della cultura 2019, è la sede ottimale per intraprendere un percorso teso a migliorare in questo ambito una cultura intesa come espressione di un ecosistema delle conoscenze scientifiche. Dal 2001 l'Italian Obesity Network gestisce e promuove una giornata che è la giornata dell'Obesity Day il 10 ottobre, che è proprio tesa a spostare l'interesse dei mass media del management sanitario e del management ministeriale dall'obesità come problema estetico all'obesità come problema di salute. All'incontro ha partecipato anche l'onorevole, nonché vicepresidente Anci, Roberto Pella, promotore di una mozione che verrà presentata il 2 luglio prossimo alla Camera. Anche le istituzioni devono farsi carico di tale problema costruendo delle città a misura d'uomo, meno cemento ma più aree verde e più piste ciclabili. Come parlamentare sicuramente mi sono fatto intermette di una mozione sull'obesità che ho scritto insieme a chi più di me conosce questa materia attraverso i massimi esponenti di questo network italiano. Una mozione che verrà calendarizzata nei prossimi mesi e che vede l'importanza e la valenza dell'investimento ma soprattutto nella prevenzione su questo importante tema. Credo che i sindaci devono essere i più vicini ai cittadini e quindi rispondere a quelle che loro sono istanze e le loro esigenze cercando di spingere sulle palestre a cielo aperto, aperto a tutta la cittadinanza, su quelle che sono le piste ciclabili dolce e l'importanza anche della mobilità in tema di bici oppure quello che è sicuramente un tema importante e fondamentale sull'azione dei percorsi e dei cammini, incentivare la gente a camminare, a fare 10.000 passi al giorno. Riflettere sui danni del gioco d'azzardo e sulla positività del gioco consapevole e moderato, soprattutto sportivo, ha fatto tappa nei giorni scorsi anche a Potenza il tour itinerante Non fare della tua vita un gioco, progetto coordinato da Adi Consum e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per sensibilizzare ed educare le persone sul tema Mediante un percorso ludico esperienziale, con eventi e flash mob nelle piazze o presso fiere, università e scuole in tutta Italia in particolare i giovani tra i 15 e 25 anni sono stati coinvolti sul gioco responsabile, solidale e legale All'evento potentino in piazza Matteotti il presidente di Adi Consum Basilicata, Vincenzo Telesca ha ospitato il responsabile dell'associazione Famiglie Fuori Gioco, Michele Cusato e coinvolto i passanti Promossa l'attività sportiva, i suoi ideali di correttezza, lealtà, sacrificio, trasparenza e rispetto delle regole, valori insostituibili e emerso per prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia e le altre forme di disagio correlate E voltiamo pagina, i cammini, seconda sessione del convegno Beni confraternali e pietà popolare Un momento significativo di incontro con ospiti da tutta Italia si tratta del ventisesimo cammino delle confraternite ospitato a Matera non solo un appuntamento di preghiera comune e di riflessione ma anche un'occasione per i confratelli di tutta Italia per ritrovarsi con le nuove generazioni e integrare la loro cultura contemporanea con la cultura tradizionale che ha permesso alle confraternite di nascere e crescere per oltre otto secoli Stiamo cercando di recuperare quanto le confraternite abbiano fatto e fanno per fare cultura produrre cultura attraverso le opere d'arte, i monumenti ma anche attraverso lo stile di vita delle confraternite la carità, l'attenzione agli altri, agli ultimi che da sempre le confraternite hanno avuto quasi come una chiesa che parte dal laicato La cultura è una parola molto grande che comprende tanti fattori tra i quali anche il culto la pietà popolare che sono, diciamo, in qualche modo prima ricchezza delle confraternite le confraternite attraverso il culto, la pietà popolare hanno creato la cultura del popolo locale Una mattinata, quella di sabato che per la seconda sessione del convegno ha visto la partecipazione di Angelo Lucano Larotonda ordinario e merito dell'Università della Basilicata sul tema le confraternite lucane al tempo di internet È importante, non soltanto perché si fa qui a Matera ed è giusto che avvenga qui ma perché molte confraternite, soprattutto in Basilicata hanno bisogno di una trasfusione di sangue, di cultura e di spiritualità Nel pomeriggio invece il convegno sul tema del ventisesimo cammino Gesù persona camminava con loro con il vescovo di Tivoli, Monsignor Parmeggiani e il docente Lindo Monaco sul tema le confraternite per la cultura dell'incontro Alle 21 in piazza Duomo il corteo dei cori delle confraternite e poi la sfilata dell'arci confraternite a morte orazione di San Filippo Neri di Lanciano L'iniziativa è inserita nell'ambito dei cammini tra radici e futuro il contributo dell'arci diocesi di Matera Ersina al percorso di Matera 2019 E il 26esimo cammino delle confraternite domenica la giornata clou Domenica 16 giugno la giornata clou del 26esimo cammino nazionale delle confraternite alle 9 appuntamento con il cammino confraternale subito dopo nello stadio 21 settembre alle 11 la messa presieduta dall'arcivescovo Caiazzo Attendiamo circa 7500 persone provenienti da tutta Italia e queste persone porteranno una ricchezza di fede, di tradizioni anche attraverso i colori vivaci dei loro abiti e le loro insegne e c'è stata un'organizzazione perfetta stiamo avendo già i riscontri positivi dell'accoglienza di questi primi due giorni ma domani dalle 5 del mattino la macchina organizzativa sarà pronta per l'accoglienza, per la distribuzione dell'acqua per l'accoglienza dei pullman che arriveranno a Vio di Luigi Sturzo e poi per il cammino vero e proprio per via nazionale via Nunziatella, via Rosselli, via Sole e stadio E la diocesi di Matera Ersina farà sentire la sua presenza anche portando in corteo la Madonna della Bruna? Sì, certamente, è il nostro simbolo più forte insieme con San Giovanni da Matera che già da due giorni sono stati portati nella chiesa di San Paolo dove avrà inizio il corteo È tutto pronto a Matera per la nona edizione della festa della Bruna dei Piccoli in programma oggi alle 18 nella Borgola Martella organizzata dalla cooperativa El Puzzle la manifestazione dedicata ai bambini ripropone tutte le fasi della festa più attesa dai materani dalla processione dei pastori allo strappo del carro a realizzare il carro trionfale di una lunghezza di 4 metri e mezzo i ragazzi della cooperativa Oltre l'Arte guidati da Eustachio Santo Chirico Saranno in tutto 90 i bambini impegnati nella messa in scena della festa coinvolte numerose scuole di Matera che hanno realizzato nei rispettivi istituti una serie di laboratori per costruire parti del carro alla guida del manufatto ci sarà Dino Chiefa la origa ufficiale del 2 luglio le telecamere di TRM Network seguiranno la manifestazione per raccontare e documentare le fasi che la caratterizzano e l'entusiasmo con il quale la comunità in particolare i giovanissimi vivono l'appuntamento World Press Photo la mostra di fotogiornalismo a Matera fino al 14 luglio è stato inaugurato venerdì 14 giugno il World Press Photo il più importante premio internazionale di fotogiornalismo che racconta gli eventi e le notizie dell'anno precedente il World Press Photo 2019 arriva a Matera in una location suggestiva l'ipogei Motta che ospiterà fino al 14 luglio prossimo la mostra fotografica numerose inoltre le iniziative collaterali in programma a Matera durante tutta la manifestazione quattro workshop con esperti italiani ed internazionali la scaletta si sta particolarmente impegnando per il 2019 ma ci auguriamo che riusciamo ad andare oltre il 2019 perché è un trend che ci deve caratterizzare tutta quando la città un trend in crescita il mondo non deve finire con il 2019 questa è una mostra particolare perché ci pone al top delle mostre fotografiche di fotografia al mondo è un World Press Photo particolarmente importante e devo dire che c'è stata tutta una sofferenza per poterla proiettare e trascinare a Matera l'iniziativa è stata svolta in rete con Fotolux la Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca e il Circolo La Scaletta di Matera un riconoscimento importante per Fotolux che da anni si muove proprio per sviluppare la cultura fotografica in Italia quindi essere stati chiamati dalla scaletta e aver coinvolto anche l'associazione 10B e Cime proprio in questo premio con questo premio internazionale è veramente un bel risultato e siamo molto molto felici di averlo raggiunto il regista Duccio Forzano a Matera per il live show del Volo si sono concluse venerdì a Matera le riprese del live show del gruppo Il Volo che la PBS Rete Televisiva Nazionale Americana trasmetterà in autunno location del concerto piazza San Pietro Caveoso che ha reso ulteriormente magica l'atmosfera a dirigere le riprese l'energico e visionario regista Duccio Forzano tra i professionisti più creativi della televisione italiana i ragazzi del Volo che dire io li ho conosciuti tanti anni fa li ho avuti ospiti in qualche programma poi li ho avuti a Sanremo quest'anno dove soprattutto nella parte della serata dei duetti abbiamo fatto una cosa meravigliosa internazionale direi con loro Alessandro Quarta che è il violinista molto bravo poi trovarsi in questo luogo meraviglioso a Matera stasera insomma ce la metteremo tutta per portare a casa il lavoro degno del luogo e del nome dei ragazzi questa piazza questa piazza in realtà due anni fa casualmente è stata protagonista in un docufilm che ho girato proprio qui e ritrovarsi qua in questa situazione ve lo dico sinceramente per me è emozionante ecco maestro quale messaggio si sente di lanciare da Matera dalla capitale europea della cultura 2019 che è simbolo di una cultura resiliente allora dirò forse una cosa banale ma io credo che bisogna credere in se stessi la resilienza nasce dal credere in se stessi qualunque cosa accada essere come dire sinceri con se stessi solo noi sappiamo cosa vogliamo chiunque sta intorno a noi non lo può sapere quindi questa è l'unica cosa che posso dire crediamo in noi stessi in occasione del concerto del volo che avrà luogo presso la casa la cava del sole scusate il giorno 16 giugno 2019 il comune di Matera ha disposto la sospensione temporanea della circolazione veicolare eccetto per i residenti sulla ex statale 7 tratto di competenza comunale dalle ore 19 fino a cessate esigenze connesse all'evento istituito inoltre il divieto di sosta sullo stesso tratto dell'arteria stradale infine divieto di transito pedonale veicolare eccetto frontisti sulla strada di collegamento tra via San Pardo e via San Vito meglio nota come strada Cristola-Gravinella dalle ore 19 alle 24 nella giornata del 16 inoltre sarà attivato un servizio speciale di navette per la cava del sole a potenza l'assessore falotico presenta il cartellone estivo 2019 nell'ambito delle iniziative culturali della stagione estiva 2019 il programma dell'estate in città potenza guarda con interesse alla villa romana di Malbaccaro sarà uno dei fili conduttori che da un punto di vista dei beni pubblici legati al tema della nostra grande tradizione culturale potranno certamente essere punti di riferimento non soltanto per eventi ma per farci riscoprire innanzitutto che abbiamo beni che forse per troppi anni abbiamo insomma ignorato devo ringraziare ovviamente la sovrintendenza archeologia della Basilicata perché ci hanno messo in condizione di poter con un accordo fatto con il comune di tracciare un percorso dal 21 inizieranno questi 13 eventi che percorreranno tutta l'estate ma che sono anche 13 momenti in cui avremo le scolaresche che ci guideranno dal liceo da Vinci quindi il liceo linguistico al liceo classico ci porteranno per mano lungo una storia antichissima questo per dire che cosa che spesso dobbiamo osare di più tutelare dei beni a volte ci sono state anche realtà che hanno provato a farlo oggi il comune porta a compimento forse ciò che andava anticipato con un po' di tempo è stato in città con un cartellone veramente denso di eventi dalla lirica che inaugureremo il giorno 28 di giugno in piazza Mario Pagano per poi passare al 5 di luglio quindi prima la traviata che rientra anche nell'ambito dell'anno gerardiano vorrei ricordare fino a passare appunto ai pagliacci di Leon Cavallo e chiude diciamo la gestione di Luca e qui voglio ringraziare il sindaco che mi ha dato la possibilità di condurre questa appassionata vicenda per portare al culmine di questa iniziativa io la chiamo così la sinergia fra privati cittadini associazioni e in modo particolare il mondo scolastico e poi vorrei dire grazie alle forze dell'ordine ai prefetti che si sono avvicendati ai questori che si sono avvicendati abbiamo potuto tenere delle manifestazioni 6.000 in tre anni e mezzo appuntamenti che hanno portato a questa città sicuramente anche il turismo quindi abbiamo avuto la possibilità di cominciarci a riscoprire con i beni che noi possediamo in questo voglio anche augurare alla prossima amministrazione e quindi anche a chi mi succederà la possibilità di poter fare sempre di più è una città che lo merita e credo che l'estate in città di quest'anno significa anche questo un modo diverso per potersi ecco passare il testimone senza grandi clamori senza evidentemente troppe polemiche ma con tanta voglia di fare per questa comunità il materacalcio è andato deserto il bando per l'acquisizione della società il comune questa mattina in conferenza stampa siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta sentiamo siamo pronti a valutare qualsiasi proposta fino all'ultimo momento utile perché il materacalcio rinasca così il vice sindaco tra anni all'indomani del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse un bando andato deserto quello volto a raccogliere a far ripartire la lunga tradizione sportiva del matera che quest'anno ha celebrato i 40 anni dalla promozione in serie B 40 anni della serie B è stata una bellissima manifestazione organizzata dai tifosi dalla società che l'amministrazione comunale ha sposato davvero con piacere il piano B è quello di riuscire a tenere a dare la disponibilità noi diamo la nostra disponibilità fino all'ultimo momento possibile per poter valutare tutte le offerte che arriveranno è una proposta che deve arrivare dagli imprenditori appassionati dagli imprenditori che vogliono realmente investire all'interno della nostra città e nel calcio materano bisogna crederci in queste cose forse a intimorire gli imprenditori le regole più serrate della FIGC osserva il vice sindaco penso che questo sia il punto il punto di chiave quindi riuscire a capire meglio quelle che sono le norme e le regole che si stanno evolvendo questo forse ha intimorito un po' gli imprenditori nel proporsi nel fare la squadra qui a Matera presente all'incontro una delegazione di tifosi a loro va il messaggio di speranza e di impegno da parte del comune ai tifosi gli dico che l'amministrazione comunale c'è c'è e sta facendo di tutto per poter rilanciare il calcio a Matera ma è vicino a tutto lo sport materano noi ci siamo siamo presenti e per quelli che sono i nostri mezzi e le nostre possibilità siamo presenti Serie C la Z Picerno si sposta al Viviani in attesa del curcio la Z Picerno inizierà il prossimo campionato di Serie C presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza dove giocherà le gare casalinghe in attesa dei lavori allo stadio Donato Curcio la notizia è stata ufficializzata al termine dell'incontro presso l'ufficio tecnico comunale con delega allo sport del capoluogo Lucano dove il Potenza Calcio ha discusso i termini della convenzione e teso la mano ai cugini Melandrini mettendo a disposizione gratuitamente l'impianto la disponibilità mostrata dalla società del Potenza si legge in una nota è molto importante per la Z Picerno e per tutta la comunità picernese che non dovrà sostenere tanti chilometri per assistere alle partite casalinghe oltre ai ringraziamenti la società neopromossa tra i professionisti si è detta disponibile a collaborare in ogni contesto per la migliore gestione dell'impianto un gesto per dare concretezza alle parole bisogna aiutarsi quando vi è bisogno ha commentato con un post Facebook il patron del Potenza Calcio Salvatore Caiata la società del Leone Rampante inoltre siederà ad un tavolo per valutare gli orari più idonei delle partite insieme agli esercenti dell'area intorno al Viviani i quali avevano espresso timori di ordine pubblico e ulteriori disagi per l'arrivo di un'altra squadra e siamo in chiusura ma prima vi ricordo che alle 15 andrà in onda il documentario dedicato alle celebrazioni per i 40 anni della promozione in serie B della Matera Calcio dunque appuntamento oggi alle 15 e replica domani alle 20 e 30 è tutto per questa edizione vi ringrazio per essere stati con noi arrivederci